In Puglia 137 classi su circa 27.000 superano i 28 alunni. Per raggiungere il limite dei 20 alunni per classe necessario per la riapertura in sicurezza delle scuole da settembre, servirebbe un aumento di organico di migliaia di unità. I dati forniti dai sindacati delle 5 categorie FLC-CGL, CIS Scuola e Will Scuola, SNALS e GILDA, in un incontro con i giornalisti davanti alla sede dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, denunciano il problema delle classi Pollaio, che senza aumento di organici e interventi sull'edilizia scolastica, rischia di compromettere anche il prossimo anno scolastico. Non ce lo possiamo permettere, spiega Roberto Calienno, segretario generale della CIS Scuola Puglia. Siamo insoddisfatti perché ormai è più di un anno che manca la scuola in Puglia. La Puglia si è distinta dalle altre regioni perché ancora oggi la frequenza, specie nelle scuole secondarie di secondo grado, è veramente ridicola perché sfiora il 10%. Le premesse per il prossimo anno scolastico non fanno neanche ben sperare perché in realtà noi abbiamo appreso adesso in via informale, però riteniamo che sia davvero così, che ci saranno ancora classi con 30 alunni. Questa cosa è completamente inammissibile perché come facciamo a garantire il distanziamento sociale a settembre se le nostre strutture non sono in grado già di contenere 25 alunni? Figuriamoci 30. Abbiamo bisogno di un organico maggiorato, abbiamo bisogno di un organico che dia stabilità e che risolva una volta per tutte il problema delle classi pollaio. Abbiamo la necessità di costituire cattedre a 18 ore e non a 24 ore come purtroppo sta accadendo. Abbiamo la necessità poi che anche i soggetti preposti veramente attuino finalmente il piano trasporti, ci sia chiarezza fin da ora su quello che sarà il piano trasporti per il nuovo anno. Abbiamo la necessità che i presidi sanitari all'interno delle scuole debbano effettivamente funzionare perché ci hanno promesso dal primo di febbraio 355 unità di personale a disposizione della scuola e ancora oggi di questo personale non c'è traccia. Sapevamo che avrebbero dovuto cominciare le operazioni di screening e di tracciamento nei primi giorni di maggio però ancora una volta questa cosa non è avvenuta. Quindi settembre deve vedere la scuola pugliese ripartire in assoluta sicurezza, ripartire al 100%, garantire il recupero di quel disagio di quella dispersione scolastica e di quella povertà culturale che è stata amplificata da questo periodo di lockdown, da questo periodo di chiusura ed è un fenomeno che tra l'altro era già esistente nella nostra regione.